Quante chance ha Nikki Haley di strappare la nomination a Donald Trump? Poche, pochissime, se domani New Hampshire non ribalta il pronostico. Se volete un cambio generazionale e volete vincere, unitevi a noi, chiede l'ex ambasciatrice all'ONU, 52 anni, ai sostenitori di Ron DeSantis, 45 anni, ritiratosi alla vigilia della seconda tappa delle primarie. Però il governatore della Florida dice che adesso appoggerà l'affarista new yorkese, 78 anni. È evidente, dice, che la maggioranza degli elettori repubblicani voglia dare un'altra possibilità a Trump. Altro che dare una possibilità. Per molti americani, Trump è il messia da seguire ciecamente, appassionatamente, tanto da sfidare il gelo pur di andare a votarlo, come settimana scorsa in Iowa, dove Trump ha stracciato i rivali. Adesso concentrerà il fuoco sull'unica sfidante rimasta, Haley, già etichettata americana non autentica per le sue origini indiane, così come ha insultato DeSantis per mesi, dalla scorsa estate, quando il governatore della Florida si era candidato e pareva un rivale temibile, più giovane, ma anche lui con una bella moglie, ex conduttrice televisiva, ultraconservatore, agguerritissimo contro migranti e minoranze varie. Ma per il muro al confine col Messico e il divieto di aborto, per le battaglie culturali e identitarie, il condottiero c'era già. E anche i finanziatori del Grand All Party, dopo aver saggiato le alternative, sembrano rassegnati. Salvo sorprese clamorose, il 5 novembre il duello per la Casa Bianca sarà Trump contro Biden. Sì, quel che un po' annoia e molto inquieta.